Buongiorno a tutti, allora mancavano le schedine, le bollettine del Gigione per quanto riguarda il campionato francese che si svolgerà la giornata tra oggi, dalle 21 in poi tutte le partite, più una la domenica. Quindi partiamo subito con la schedina. Angers-Marsiglia X2, Lille-Tolosa 1, Monaco-Wingkamp 1x, Montpellier-Lione X2, Paris Saint-Germain-Nantes 1-11 era veramente poco, aggiungiamo 1-1,5, non stiamo a esagerare, facciamo 1-1,5 giusto per arrivare a 1-30 o 1-40. Stade-Rens-Kahn 1, Rem-Nims 1, Saint-Etienne-Digione 1, Racing-Strasburgo-Nizza 1x, Bordeaux-Amien 1. Schedina alternativa, Angers-Marsiglia over 1,5, Lille-Tolosa 1, Monaco-Wingkamp mi rischio un gol, Montpellier-Lione ririschio gol, Paris Saint-Germain-Nantes 1 più over 1,5, lo lascio invariato, Stade-Rens-Kahn 1, Rem-Nims 1, Saint-Etienne-Digione gol, anche qui è rischiato però mi piace il rischio, Racing-Strasburgo-Nizza 1x e Bordeaux-Amien 1. Veniamo alle mie bollettine, ho scelto queste quattro partite, Lille-Tolosa, Saint-Etienne-Digione, Stade-Rens-Kahn e Rem-Nims. Lille-Tolosa 1, Saint-Etienne-Digione 1, Stade-Rens-Kahn 1 e Rem-Nims 1, con 5 euro se ne vincerebbero 38,55. Schedina alternativa, ho vinto qualche cosa, diciamo così. Lille-Tolosa 1x, Saint-Etienne-Digione 1, Stade-Rens-Kahn 1x e Rem-Nims 1x, con 5 euro se ne vincerebbero giusti 11,90 euro, giusto per raddoppiare la quota. Se vogliamo elidere la X di Lille-Tolosa e giocarci l'uno fisso, quindi giocare solo le due doppie per Stade-Rens-Kahn e Rem-Nims, si andrebbe a triplicare la cifra, quindi con 5 euro se ne vincerebbero 17,23, e quindi quasi tre volte e mezzo la posta. Veniamo alla terza bollettina. Lille-Tolosa 1x più over 1,5, Saint-Etienne-Digione 1 più over 1,5, Stade-Rens-Kahn 1x più over 1,5, Rem-Nims 1x più over 1,5, con 5 euro se ne vincerebbero 33,82. Vediamo se il gol ospite porta fortuna anche stavolta, visto che nella scorsa settimana ne ho preso uno. Proviamolo ancora. Lille-Tolosa gol ospite, Saint-Etienne-Digione gol ospite, Stade-Rens-Kahn gol ospite e Rem-Nims gol ospite. Con 5 euro se ne vincono 34,15. Veniamo alla quinta bollettina, il gol più over. Allora, Lille-Tolosa gol più over, attenzione, la differenza è minima, siamo nell'ambito del meno 0,50, quindi no gol più under è favorito, però di poco, siamo 3,10 se non sbaglio contro 3,55. Quindi no gol più under 3,10, gol più over 3,55, quindi una differenza miglia. Saint-Etienne-Digione, scusate, Saint-Etienne-Digione gol più over, qua è favorito il gol più over, quindi tenetene conto. Ecco, la partita quella più a rischio è Stade-Rens-Kahn gol più over, in cui è favoritissimo quasi il doppio, quindi 1,80 contro 3,60 per intenderci più o meno, il no gol più under, quindi se volete su questa magari io faccio gol più over, poi decidete voi come giocarmela. Infine, Rem-Nims gol più over è uguale, no gol più under, gol più over è a 3,3 o 2,80, qualcosa di simile, ma sono la stessa cifra, uguale, identica. Giocandola così con 5 euro se ne vincerebbero 216,12, quindi ragionate bene su come impostare la vostra bollettina. Io ve la consiglio così, ma poi usate la vostra testa, come vi dico sempre. Non copiatemi alla lettera, prendete spunto, io vi do queste bollettine così per darvi qualche idea di come poterle giocare, quanto possono incassare, ma poi dopo magari strappolate una, una, una e createvi la vostra. Infine, l'ultima bollettina quella folle, quella che io chiamo sempre quella folle, è il tricombo Lille-Tolosa 1 più gol più over, Saint-Etienne-Digione-Digione 1 più gol più over, Sted Reins-Keyn 1 più gol più over e Rem-Nims 1 più gol più over. Con 2 euro se ne vincerebbero 472,81, con 5 euro se ne vincerebbero addirittura 1182, quindi attenzione anche con questa bollettina sempre gestire con cura, ragionare un attimino, vedere se il rischio vale la candela e soprattutto se magari non siete convinti di uno dei pronostici che ho messo, invertitelo pure e createla voi. Io vi do solo qualche dritta, poi decidete sempre voi e soprattutto, come dico sempre, moderazione, non giocatele tutte cifre astronome, a meno che ve lo potete permettere allora un altro discorso. Io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo ai prossimi video. Ciao!